Signori, ben tornati. Da qua ho detto che non carico un video. Lo dico perché lo dico. Allora, signori, mi sono preso una pausa al canale perché questo qua, se lo scrivo, è una pausa. Questo canale sta andando molto, molto bene. Non sto dicendo che chiudo il canale, sto dicendo solo, arriverà una sorpresa che farò una clip molto bene, ragazzi. Aperare una clip. E poi vediamo, ragazzi. Poi vediamo. Ragazzi, prendo la pausa, mi piace perché sono a casa del zio, non c'è computer. e c'ho solo il tempo per registrare. E mi piace tanto perché non posso registrare a casa del zio. Quindi sto facendo questo video, come so, qua. Qua sono, arrivati. Sono qua perché non posso vedere il video qua. Non c'ho più, non c'ho niente. Quindi, ragazzi, prendo una pausa a, a, come so, come si chiama? Sul telefono, anche. Sul telefono mi posso registrare. Quindi, prendo quella, prendo quella, direzione, vuol dire, vuol dire, che cazzo, che cazzo, non lo so. Ragazzi, non mi direi solo a, solo a Instagram, ti lascio il link in canzone. Se volete andare a, se chiamo, Massimo Pauletti, 9-9. Se chiamo. Andate o c'è, inscrivetevi sul canale di Massimo, e, no va a sette, inscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, e alla prossima. Grazie a tutti.